Se... Ah, sono i champion. Ok, infatti... Rip! Spam ma stref. Ma perché? Pensate che alla prima riuscitevamo a fare 35 kill alla prima partita? Chi siamo? Ce la farebbe nessuno. Prenderlo. Ok, qua c'è un ottimo starting point per me. Mi manca l'armor, forse è qua. Ma mi ha tirato giù lui? Ah sì, mi ha fatto un headshot, mi ha fatto. What? C'ha un HP. Oddio, non ha fatto neanche vedere l'animazione. Forse l'ho resso. Lui ce l'aveva l'armor. Se... Qua, andiamo. Possiamo andare, se volete. Due, due. Siamo in atto. L'ho ressato. La madame. Bella la made. Cato, buono. Ok. Keep going. Un altro team. Ottimo. Pathfinder è bianco. Ok. Qua davanti a me è uno. Vabbè, faccio il crypto io. Due. C'era il pet, vai, buttalo qua, buttalo, andiamo su. Spettacolo. Ah, si, stanno sopra. Sì, aspettate. Me lo faccio io intanto. Oh, dietro di voi, raga. Oh, no, qua sopra. Yoink. Aspetta, aspetta, c'è gente da cookie. Sì. Uno sopra anche. Sì, è là, uno, uno là. Non l'ho preso neanche una volta. Da me, da me. Forse è terra sulla mia testa. Sì. Eccolo. Fuori uno. Fuori uno. Torna un altro, buzzi, butta. Molto. Craccato, craccato, quello è top. Sono full. Too late. Ottimo. 2020, ufficiale. Sì. Sopra. Sì. Vivo. 109. La caustica a uno. Ok. Sono tutti i team, ci sono, tutti e tre. Quasi croccato il cripto. Mancano due team. Fuori ho una vita, oltre all'armatura viola. Craccato che è andato. Everyone is dead. Mi sa che non ho tempo di farmi una viola. Ah, vale. Meglio prendere questa. Andiamo. E niente, manca un team. Oh, davanti a noi, sì. Lol, neanche un hit mi ha registrato. Fighissimo. Vabbè, gg. 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 Va bene. Quante ne avremo portate a casa? Di sicuro non 30, né 35, ma... Beh, un po' ne abbiamo portate a casa, su. Più o meno. 23, 24. Spero. Vabbè. 24 siano. Andiamo avanti. Noi dobbiamo farne 30, raga. Almeno 30. In chat dicono addirittura 35. Cioè, abituati... Sono abituati a... A spumante, caviale, champagne, tutto insieme. Va bene, chat, va bene. Allora, qua, io vado lì sicuro. Vado all'area... Io ti propongo... Esatto, ti propongo di... O vai là, o vai da uno dei due lati, te e Zaref. Io atterro qua subito, che c'ho sto Eva 8 lì simpatico che non mi voglio far sfuggire. Apro la porta, c'ho Eva 8, solo che devo trovare l'armatura. Ciao Eva 8, molto bene, anche oggi, grande, bomber. Una piappogno è sol... Gli ho dato una piccola mano. Non hanno armor? Non hanno armor. Rotta armor. Che crepa. O dietro, dietro. Rotta, rotta. 440. Ah, perché non mi ha... Che fa? Preso. C'è gente vicina però. Che va? Eccolo. Arriva uno da dietro. E' uno, uno. Questo è andato. C'è una blu, c'è una blu. Qua dentro. Mancano 25 persone. E noi... Io tornerei anche a Skull, credo. Non lo so. Boh. Prendiamo andare verso il lago di qua, dai, che c'è sempre gente. Verso il fiume. Spare una bunker. Mannaggia se si spara una bunker. Sono anche fuori. Credo siano tre team. No, non uccidetevi. Servono a noi le kill. Dammi, dammi di qua. C'è una lifeline. Oh, questo è un altro ancora dispera quello che ho chiamato. Qua, qua, qua. Anche da me, anche da me. Sono tre? Sì. Corri, corri. Fuori. No, da me. Quanto no? No, questa è una bella... Oh. C'è andato a me. Andiamo a uno. Andiamo a uno. Up. Oh, oh. Potrebbe essere una buona idea riprenderlo, sai? Preparati. Lo devo prendere. Che c'è questa porca. Che dreamer questo. No, l'ho preso anch'io ne dovrebbe prendere. Oh, posso camminare. Arrivo, arrivo. Posso camminare, Zeref. Eccomi. Ciao, Zeref. Cammino, guardami. Che sta succedendo? Ti sei dimenticato di me. Oh, qua ne ho fatto. Vieni dentro, vieni dentro, vieni dentro, vieni dentro, vieni dentro, vieni dentro. Ma l'hanno fatto. E' una, è solo uno. Eccomi. Ah, tre, tre. Tre? Siamo a 23 kill, mi ha farne sette. Uno è noccato qua, uno è noccato. La scelta, la scelta. Eh, no, no, no. No, aspetta, sono già tutti noccati, credo. Aspetta, uccidere l'ultimo. Ok. Ok, bomba, vai via, andiamo via, andiamo via, andiamo via, andiamo via, andiamo via, andiamo via. Hai sei solo? Uno, uno. Last move? Oh, e tu chi sei? Ok, basta, forse possiamo ucciderne uno solo. Bra, ok, basta, lascia l'altro, lasciamolo, magari lasciamolo restare che ce la fa, andiamo via, andiamo via. È un po' rischia come cosa, ma proviamola. Sì, vai, vai, scappate dal tp, scappate dal tp. Via, 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 via. Via. Da quant'è che non facevano queste crozze. Quale bug? Vado via, addio. Basta, 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 addio, raga, è stato bello. GG. Quante ne abbiamo, boys? Qua, l'altra. Quattro. Ah, vuoi fa pugni. Quante ne hai, Zarefone? 17. 17, 34, 35, perfetto, raga, 35. Attenzione! Bene, il Toxic! 35, ufficiale, l'abbiamo fatta così, alla terza partita. Così, super Toxic. 35 bombe, attenzione. Proprio loro, ufficialissimo. Proprio qua sopra. Attenzione. 35 bombe. Beh, fate provare i video più difficile. Oh! Counter, 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 toxic. Counter Toxic, proprio, una dopo l'altra. ! rosorosa. Ah! 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 Grazie a tutti.